Sergio Abramo ha fatto visita ai campi di calcio del quartiere Santa Maria, dove si allenano le squadre del settore giovanile dell'US Catanzaro, che è affidato all'FC Catanzaro Lido 2004. Pierluigi Monteverdi, presidente del sodalizio sportivo, ha accolto Sergio Abramo presso la struttura dove sono ospitate le attività della scuola calcio, frequentata da decine e decine di piccoli talenti cadanzaresi. Il candidato sindaco ha affermato che lo sport rappresenta la migliore opportunità per aiutare i ragazzi ad evitare i tanti pericoli della strada e per questo motivo l'amministrazione comunale dovrà avere un occhio di riguardo, un'attenzione speciale verso il settore giovanile, dotando gli impianti di spazi moderni in grado di offrire alle società le condizioni ideali per la pratica sportiva. Lo sport è importante per i ragazzi perché significa attivarli in un mondo che è completamente diverso da quello della strada, quindi noi teniamo tantissimo lo sport, ma soprattutto l'US giovanile, a cui credo dedicheremo grande attenzione anche il futuro come amministrazione comunale, ha dimostrato anche di saperci fare, di tenere questa struttura in maniera decente, ma soprattutto credo che abbiano bisogno di ultimi spazi anche in futuro e dare risposta a questi ragazzi che amano il gioco del calcio. Grazie 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 Grazie